Ciao e benvenuti al MCS Master Eater, produttore di produttore e produttore di soluzione di climatica mondiale. Qui abbiamo il B-150 e vi mostrerò nel luogo di gioco. Ciao, mio nome è Alberto e oggi vi mostrerò il Master B-150. Questo calcio di olio direttore è compatto, robusto, relazionato e portabile. Ora vi mostrerò la box. Ora vi mostrerò il calcio. Come l'unità è già assemblata, è molto facile di usare. Solo scegliere e spiegare. Il calcio è creato in Italia e è certificato. Ricordate che questo calcio deve essere usato solo in luoghi e ben ventilati. solo in luoghi. Per evitare l'overecchio e l'overecchio, i calcio di calcio possono essere controllati da un termostante remoto. Facciamo una guardia dentro del calcio. Il calcio è molto semplice. Abbiamo il comprensor, l'elettrico, il fan, la scuola di spazio e la città di combustione che è creata da stile italiano. Il B-150 funziona con un altro tipo di olio. Il vostro olio non è completamente pulito, non è un problema. Il B-150 funziona perfettamente in ogni modo. Per rendere la scuola più facile, c'è una scuola di dischiare sotto il calcio metallo. Il maestro fa il calcio in tutto il mondo. in l'eco, in se un prodotto da non riuscì, in se un prodotto non riuscì. Per rendere la scuola di San Giovanni, in se un prodotto per rendere il calcio in un calcio. in Terra, aveva un calcio in usato a un alto livello, in un cuore di spazio in un gioco. Ilончato è che finito così non ciò, e un prodotto tra in un prodotto. In un prodotto nelle luoghi e�, in una buonaka, Grazie a tutti.